Dopo un po' di tempo torno a fare questi video verticali che in un periodo mi sono tanto concentrato su questa tipologia, questo formato, perché mi piace proprio l'intimità che creano. Io con i miei contenuti che seguo, con i contenuti con i creator che seguo, quelli che fanno, che hanno iniziato a fare video verticali, parlati in questo modo, sento di avere un avvicinamento. Vabbè, parliamo di quello di cui ti voglio parlare in questo contenuto, e cioè la piattaforma Enelix, o più in generale le piattaforme che dovrebbero risolvere la questione della cessione del credito, dello sconto in fattura, tutti i problemi che sono stati creati nel 2022 e che ancora oggi non sono stati risolti. La piattaforma Enelix, parliamo di questa piattaforma che da inizio 2023 è stata annunciata e poi sarebbe dovuta essere stata sviluppata per poi entrare in funzione nei mesi successivi. Quindi in realtà l'obiettivo era quello di risolvere tutti i problemi. Sembrava che i problemi della mancata riapertura del mercato della cessione fosse dovuta a questo sistema che avrebbe dovuto risolvere la piattaforma Enelix. Tutto ciò non è successo. Poi nel corso del tempo il governo ha rimandato a settembre l'apertura della piattaforma. Subito dopo l'annuncio che sarebbe tutto stato risolto a settembre, cominciano a venire fuori le notizie delle quali ti ho parlato, se mi segui lo sai, nei miei contenuti. A proposito dei problemi tecnici per far dialogare tutte le banche insieme a questa piattaforma e anche di accordo tra i vari soggetti che avrebbero dovuto conformarsi al sistema per poter fare in modo poi che questi crediti riprendano un mercato, riprendano a circolare. Oggi, o meglio qualche giorno fa, durante la question time, alla commissione finanze, a domanda diretta sulla piattaforma Enelix per avere degli aggiornamenti, il governo di fatto la scarica. Cioè comincia a prendere le distanze della piattaforma Enelix dicendo che è una piattaforma che viene gestita dalla società privata secondo le proprie modalità e che quindi il governo non ha nulla a che fare in sostanza con questa piattaforma. Tutte le promesse quindi che sono state fatte, le svariate promesse, tra le quali c'è anche l'attivazione o la risoluzione dei problemi attraverso questa piattaforma, queste piattaforme, perché ce ne sono più di una che sono in corso di attivazione più o meno funzionanti, non si sa bene, con dei limiti molto alti di cessione. Lasciamo perdere tutte le promesse sfumate in un nulla, perché leggendo tra le righe, perché è quello che bisognerebbe fare quando non si ha un testo di legge, quando non si ha un'interpretazione diretta, quando si hanno delle dichiarazioni, quando si legge, si leggono delle risposte, si leggono degli annunci, si ascoltano degli annunci, bisogna leggere tra le righe, bisogna confrontare con ciò che è successo fino ad allora, ciò che era stato detto e come era stato detto fino ad allora e come è cambiato. Leggere tra le righe il tono, le parole, anche se dovesse arrivare a settembre, che già comunque sarebbe tardi, e anche se dovesse iniziare a funzionare da subito, e sarebbe comunque tardi, non c'è nessuna certezza che questo avvenga. Nessuna certezza. Anzi, il fatto che venga prima annunciata, poi spostata a settembre, poi adesso cominciano a prendere le distanze, fa sempre, lascia sempre più pensare che questa piattaforma morirà in un nulla, magari mi sbaglio, chi lo sa, magari sarà effettivamente la risoluzione di tutti i mali, della cessione del credito e dei crediti incagliati, ma purtroppo ad oggi la mia sensazione è questa. Con questo ho concluso, volevo solo trasmettere questo breve pensiero che si adattava perfettamente a questo formato verticale, che tanto apprezzo. Grazie di essere arrivato fin qui, come sempre ti ricordo che i miei contenuti sono realizzabili grazie agli abbonamenti, un sistema di abbonamenti che ti permette di accedere a contenuti esclusivi, ad accedere a domande, risposte, alla possibilità di farmi delle domande e tutti i contenuti pubblici posso dedicare, studiare ore e ore durante la settimana proprio grazie agli abbonati. Innanzitutto grazie agli abbonati e se vuoi sostenere il lavoro che faccio, in descrizione trovi un link a Patreon o abbonandoti su YouTube. Ti ringrazio, ci vediamo al prossimo contenuto. Grazie a tutti.